A Telesia, nel Parco delle Terme, torna il 22 e il 23 agosto Telesia for Peoples. La manifestazione è nata da un'idea dell'associazione italo-americana Icosit. Ne parliamo in studio con Mimmo Ragozzino, presidente. Benvenuto. Grazie per l'ospedalità. Telesia for Peoples per i popoli punta all'integrazione. Sabato a 22 ci saranno fotografie dell'Italia al tempo del Covid e in anteprima un sondaggio. Dell'Istituto Tecnè che il presidente Buttaroni ci rivelerà il sentimento popolare a livello nazionale sugli immigrati. È un dato molto interessante. Insieme a Buttaroni ci sarà il segretario nazionale dell'UGL Capone, il collega Mario Giordano, il presidente nazionale delle Agri dell'Ufficio Legalità e Clemente Massella, il signore di Benevento. Non può esserci lavoro senza integrazione? Sì, questo è il tema. Senza lavoro non c'è integrazione. La fotografia dell'Italia nell'era del Covid. Tematiche quanto mai attuali e a me, poiché siamo alla settima edizione, l'integrazione tra i popoli è sempre di attualità. Domenica una serata spettacolo con il premio tradizionalmente riservato a personaggi che nella loro utilità non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli. Nell'anno del Covid chi troviamo tra i vincitori? Quest'anno innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare tutte le forze dell'ordine per la collaborazione con a capo la questura di Benevento e la prefettura. Ma abbiamo voluto dare un messaggio forte, quella di un'altra regione. E non a caso la maggior parte dei premiati sono tutti i campani, a cominciare dal professor Paolo Scerto per la ricerca, due imprenditori noti, Sandro Lavornia e Arcangelo Bove Svapo Web, ma anche degli artisti come Gigi Ross e il giovanissimo talentuoso Nicola Siciliano che sarà premiato insieme al collega Angelo Cerullo dell'Ansa. E quindi diciamo che questa cerimonia verrà nell'ambito di uno spettacolo. Ad ingresso gratuito. Chiaramente l'ingresso è gratuito, ma nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, ovviamente d'obbligo. Grazie a Milno Ragozzino.